E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche quest'oggi andiamo insieme a fare il Morning With Crypto edizione di sabato appunto il Morning With Crypto vi ricordo è dal lunedì al venerdì però diciamo che oggi ve l'avevo appunto già anticipato nella giornata di ieri è una giornata abbastanza particolare perché avremo finalmente Elon Musk che farà la sua apparizione sul Saturday Night Live e probabilmente andrà a spingere in maniera molto aggressiva Dogecoin quindi sapete che quando c'è bisogno di essere lì ci siamo e quindi io vi invito come sempre a lasciarmi un bel mi piace sotto questi contenuti, iscrivervi al canale col click sulla campanellina appunto sono contenuti time sensitive anche per i nuovi non vi costa nulla però diciamo che è un mercato che si evolve molto rapidamente e arrivare sul pezzo è sempre la cosa migliore in più per quelli che non lo sapessero ancora trovate qui sotto in descrizione i link per l'Afterside Academy per appunto avere le basi ok per poter navigare interno di questo settore soprattutto costruire un vostro metodo di analisi però partiamo con la prima news quella appunto che continua ok Elon Musk a spingere Doge appunto con parlando appunto di ritorni appunto in un tweet recente quello che appunto è emerso dove è stato appunto diciamo espresso questo concetto appunto che Dogecoin rappresenta la speranza per le persone che sono state buttate fuori dalla pandemia quindi non hanno penso perso il posto di lavoro si intenda quello appunto da cambiare la tipologia di mentalità e Elon Musk appunto ha risposto dicendo che la pensa in quel modo lì anche lui il discorso è che appunto se si fossero investiti gli stimulus check appunto in Dogecoin si avrebbero circa 817.000 dollari appunto se si fossero investiti solamente il secondo stimolo dei 500 dollari 120.000 e se si avessero messo 1.400 dollari in Doge in aprile ora si avrebbero 19.000 dollari si dice anche che se i 1200 dollari fossero stati messi a maggio 2015 oggi si avrebbero 11.2 millions è ovvio che ragazzi col senno di poi si possono dire tante cose ci sono tantissime shitcoin che sono morte ancora prima di essere di aver visto la luce lo sapete molto bene quindi il mio consiglio è sempre quello di ragionare su cifre corrette senza andare a fantasticare troppo perché rincorrere questi trend è molto pericoloso e soprattutto rincorrerli adesso ricordatevi sempre che voi potete andare in gain ma il gain viene valutato anche sulla base del rischio che vi prendete ok quindi quello è fondamentale però anche oggi non possiamo non parlare di questa situazione perché è molto particolare la market cap sta arrivando a prendere quella di bnb il CEO di Binance CZ ha parlato in una delle sue live di una situazione che mi trova abbastanza d'accordo sul fatto appunto che le banche che rifiuteranno di lavorare con le cripto saranno quelle che pagheranno un prezzo più caro insomma perché effettivamente va a paragonare come le banche che appunto che lavorano con le cripto che non lavorano con le cripto è come appunto inter le librerie che si rifiutano di andare a lavorare con internet ed è vero è un po un'evoluzione fondamentalmente della moneta e inizialmente c'è un po di scetticismo ma poi ovviamente si va a definire meglio quello che è effettivamente le cripto quelle che sono effettivamente le nuove valute e quindi secondo me ci sta bisogna adattarsi velocemente un articolo molto interessante che vi invito comunque andare a leggere l'SMP l'ultima notizia di oggi lancia il primo cripto indicato in indice ok per bitcoin e ethereum ma questa è un'altra cosa molto interessante appunto questo questo indica questo indice viene lanciato direttamente da SMP appunto e andrà a ripercorrere quello che è effettivamente l'andamento di bitcoin e ethereum al suo interno non che sia una cosa che non sia mai vista ma il discorso è che comunque anche la borsa tradizionale sta andando a indicizzare questi asset il che è ottimo ok perché continua l'adozione verso appunto bitcoin ethereum e il modo delle cripto voglio passare direttamente ai gainers delle 24 ore perché troviamo bake che finalmente torna aggressivo ok quindi primo gainers bake a 7 dollari più 33 in ultime 24 ore più 48 in ultimi sette giorni un miliardo e 3 di cap sono quelle coin ragazzi che che avevo anche trittato ve l'ho anche scritto bisogna avere pazienza fondamentalmente se voi credete nel progetto ci vuole pazienza perché non è successo nulla da un giorno all'altro ma c'è solo un po di volatilità quindi per il momento registriamo il top gainer horizon più 33 bene bitcoin diamond vola tutto più 28 con più 225 su settimana phantom più 22 dogecoin nulla da da dire abbiamo parlato abbastanza rapidamente una market cap direi spaventosa 92 miliardi di dollari 100 più 100 per cento nell'anno negli ultimi sette giorni cosmos più 17 anche cosmos ha tante novità con l'ibc e insomma sulla sua blockchain sta sviluppando tanto insomma si riprende una bella gain 3 tanti 11 icon più 9 vedete che comunque gainers ce ne sono abbastanza anche in doppia cifra losers che troviamo quantum ma su settimana super positiva telcoin meno 12 ma su settimana super positiva e tiri un classic idem da indietro un 14 per cento ma sono nomi che hanno non performato bene di più ios uguale meno 8 bittorret meno 7 nio meno 6 tron meno 6 vedete effettivamente grandissimi grandissimi losers non ce ne sono da evidenziare se non appunto quanto ma sono tutti i nomi che hanno super performato quindi nulla di particolare andiamo a vedere rapidamente perché sapete che poi andiamo a vederlo nel pomeriggio quello che è successo nella notte non è di che sideways sideways riportandoci però al di sopra e adesso possiamo anche andare a allungare live con voi questo box appunto perché sembrerebbe averlo mantenuto ok cosa significa significa che comunque a livello daily se riusciamo se riusciamo a chiudere al di sopra ok un po di scusate inquadratura a chiudere al di sopra di questi box sono molto importanti perché andiamo a chiudere tutta questa liquidità e vedete come le shadow in realtà iniziano ad essere abbastanza alte al di sopra perché perché comunque abbiamo offerta che cerca di tenerci a ribasso e non consentirci andare attaccare 60k è un livello importante avevamo già parlato più più volte però vedete come queste candele di engulfing vadano effettivamente a recuperare l'offerta e quindi bears quindi fondamentalmente per il momento non lo vedo messo male però ovviamente ricordiamoci che il mercato poi reagisce come vuole quindi noi cerchiamo di interpretare i movimenti quindi a livello invece di total market cap molto bene perché ci manteniamo sui massimi 2.34 trillions a livello di total 2 delle alz 1.26 trillions e dominans in lateralizzazione ieri è chiuso positiva la giornata di ieri per la dominans è recuperato qualcosina ma lo vedete segnali di inversione non ce ne sono personalmente siamo ancora in una fase molto molto discendente ragazzi questa sera sarà molto interessante capire cosa accadrà perché vedremo probabilmente dei pump e altrettanti dump dobbiamo stare un po attenti perché secondo me si preannuncia un weekend di volatilità io credo questo vista la situazione un po globale quello che è il sentimento quello che sta un po accadendo però appunto lo scopriremo solo nella giornata odierna e nel weekend direi tutto ragazzi io mi fermo intanto vi invito come sempre lasciate un bel mi piace se questi contenuti reputati interessanti utili quindi non dimenticatevene non vi costa nulla ma aiuta tantissimo iscrivetevi al canale poi col clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti e noi ci vediamo più tardi con un prossimo video aggiornamento ciao a tutti